buongiorno buongiorno a tutti eccoci per la rassegna stampa di oggi giovedì 10 marzo è inutile dire che sulle prime pagine della stragrande maggioranza dei giornali ci stanno titoli legati a una foto che non avremmo mai voluto vedere come tanti altri non avremmo dovete in questi giorni ma sono i titoli che sono relativi e la foto che sono relativi al misile che ha colpito l'ospedale sì che è scusate pediatrico di mario polo vediamo li quali sono questi due il correre della sera in prima pagina colpito l'ospedale dei bambini bombe su mario polo vittime fosse comuni ancora la repubblica la stessa foto che al correre della sera la morte dell'innocenza e abbiamo ancora la stampa bombe sui bambini ancora il domani con una foto diversa ma sempre di una bambina colpita l'apocalisse di mario polo distrutto l'ospedale salta la tregua tregua che peraltro diciamo non si è mai vista in realtà il giornale missili sui bambini ancora andiamo sul riformista vi ricordate gli alta c'è un interesse interessante editoriale di del riformista di vero sanzonetti che proprio a questo dedica alla sua riflessione ancora il manifesto bombe accaduta libera e il titolo e anche qui la foto dell'ospedale pediatrico colpito il messaggero bombe sulle culle così anche il foglio oggi bombe sui figli dell'europa e ancora l'avvenire mario polo città martire vedere che i titoli sono inevitabilmente tutti uguali le foto purtroppo ce n'è una che molto diffusa che drammatica in cui si vede una donna incinta che viene portata via perché perché diciamo la verità la guerra non si vorrebbe mai sentire parlare di guerra sappiamo che la guerra produce vittime e però i civili dovrebbero essere protetti e quindi non dovrebbero cadere in guerra sappiamo che purtroppo accade ma tra i civili se c'è un tabù militare è quello delle donne e bambini cioè non dovrebbero proprio essere colpiti dovrebbero essere ulteriormente protetti ecco questa è l'occasione della quale insieme donne e bambini chiusi dentro un ospedale pediatrico sono state colpiti feriti uccisi insomma è una qualcosa che veramente dimostra un escalation purtroppo la peggiore rispetto a questa assurda guerra che si sta combattendo in ucraina ma a questo punto come di consueto facciamo una panoramica dai giornali cominciamo dal Corriere della Sera che ovviamente dedica le pagine successive a quello che è successo a Moripol le bombe sull'ospedale l'orrore di madri e figlie ehm scrive Marta Serafini mentre i negoziati stentano le forze russe avanzano verso Kharkiv e Nikolaev Mosca ammette di aver fatto ricorso alla leva obbligatoria per preparare l'invasione gli USA dicono potrebbe usare armi chimiche e poi c'è a proposito dell'orrore eh l'articolo di Andrea Nicastro un sibilo e poi l'esplosione l'attacco arrivato dal cielo sul reparto maternità basta con questa atrocità un missile di precisione ha devastato la struttura affollata da partorienti almeno diciassette feriti non c'è tempo neppure per fare i funerali ieri quarantasette vittime sono state sepolte in una fossa comune insomma queste sono le cose drammatiche che ci arrivano da Mariupol e poi a più in generale a proposito dei eh dei civili eh è Lorenzo Cremonesi che è mh nei pressi di Kiev inviato per il Corriere della Sera i civili in fuga eh Kiev salta il corridore umanitario i russi sequestrano anche i bus spari vicino alle strade i soldati hanno bloccato decine di mezzi destinati ai profughi una mamma piange disperata non trova più i due figli questo è il quadro proposto dal Corriere della Sera che poi a pagina 6 cerca di come dire analizzare la strategia allora dice pochi mezzi caccia abbattuti così la superiorità aerea è per ora sfuggita ai russi il caso dei mig polacchi Andrea Martinelli e Guido Olimpio e dice a Washington sono stati molto chiari sul non sottovalutare lo strapotere di Mosca meno è chiaro il perché la Russia non si è riuscita a dominare il cielo si domandano eh per l'appunto Marinelli e Olimpio e cosa fa Zeleschi e qui c'è lo scoop del Corriere della Sera perché il Corriere della Sera propone ehm una intervista via WhatsApp con Zeleschi che dice non ho paura per la vita mi protegge la mia gente ehm dice come vivo dormo pochissimo bevo una quantità impressionante di caffè poi costanti trattative per quanto riguarda la famiglia dice andare all'estero gli americani mi hanno giudicato male resto qui anche la mia famiglia è rimasta e ovviamente commenta quello che sta accadendo siamo alla barbarie sì stiamo ricevendo armi ma ci serve ben altro perché la barbarie non conosce limiti ancora ehm a proposito della no flight zone dice non volete no flight zone dateci aerei da combattimento e ai nostri cieli ci penseremo noi a proposito del materie prime gas e petrolio si continua a comprare petrolio e gas dalla Russia le sanzioni vanno inasprite e poi a proposito di Putin dice sono convinto che il presidente russo ben di rado si confronta con persone oneste e sincere e poi ancora a mio avviso anche la Polonia è minacciata anzi all'interno 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 anzi l'intero continente europeo è in pericolo questo tra l'altro dice ehm Zelensky che appunto pone il sommario del Corriere della Sera eh Catherine Gilbert eh ha fatto questa ehm eh intervista eh da Diezet che è la traduzione di Rita Baldassarre quindi è un'intervista ripresa ma insomma eh intervista via Whatsapp al presidente ucraino che sul fatto di essere l'obiettivo numero uno del cremino dice con l'Ucraina al tuo fianco ti senti sicuro questo è un principio che molti in occidente dovrebbero imparare così eh Zelensky e cosa propone l'Ucraina questo ce lo dice Paolo Valentino corrispondente da Berlino l'Ucraina offre la neutralità ma non cederemo territori il vertice di oggi a Antalya lo vedremo poi su questo si concentrano molti giornali in Turchia preceduto da uno scambio di cauti segnali di disponibilità a trattare Zelensky definisce però impossibile riconoscere la missione russa della eh Crimea è invece una delle cose che vuole eh Putin e ancora c'è il presidente ucraino si dichiara pronto a compromessi su Don Donetsk e Lugansk tra le condizioni le due province separatiste le tra le condizioni di Mosca le due repubbliche autoproclamate siano stati indipendenti eh e poi nel taglio basso Fabrizio Dragosei si occupa del destino di chi è fuggito dai separatisti del Donbass eh che pesa sulla trattativa ancora eh dal Corriere della Sera si parla del giallo del generale russo ucciso il generale ucciso della fuga di notizie è autosabotaggio la morte di 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 Vitaly eh Gerasimov scoperta dagli ucraini grazie a una conversazione telefonica tra ufficiali russi l'ipotesi che le bombe abbiano distrutto la rete criptata attraverso la quale si presume si scambiano informazioni i vertici eh militari russi e cosa succede a Mosca sempre Fabrizio eh Dragosei ce ne parla il presidente russo ha trascorso la pandemia in isolamento ora le foto ufficiali alimentano le voci di controlli fasulli la rete delle residenze il rifugio di Stalin e quelli antiatomici insomma il mistero sugli spuntamenti sugli spostamenti è al Cremlino o in un bunker tra l'altro nel taglio basso eh c'è un'indagine della Guardia di Finanza ci dice Marco Gasperetti iotto di centoquaranta metri è dello zar giallo in Toscana ehm e vabbè si vedono queste foto di questi schiotte meravigliosi ok tema centrale nucleare ieri sono state voci sul fatto che la centrale nucleare eh potrebbe invece essere stata in qualche modo lesionata e Massimo Sideri che scrive a pagina quindici la centrale è senza elettricità allarme per i materiali radioattivi Kiev dice tra 48 ore possibile rilascio di radiazioni la IEA frena ma il direttore chiede di visitare il sito i russi non trasmettono più dati anche da Zaporizia e mh vedremo poi come si attrezza anche l'Italia dopo in altri in altri articoli poi a proposito dell'Italia cosa sta facendo l'Italia? Ieri Draghi ha risposto al question time alla camera toccando molti degli argomenti legati alla guerra dal punto di vista del contributo che eh l'Italia sta dando all'Ucraina ma anche alle ripercussioni sul gas e sull'economia italiana e quindi in questo caso è Marco Galluzzo che titola scrive l'articolo titolato a pagina 6 del Corriere della Sera gas lavoriamo su altri interventi Draghi guarda anche al nucleare il premier risponde alle interrogazioni dei deputati IVA ridotta al 5% e 16 miliardi non sono sufficienti già accolti 24 mila profughi eh crisi senza precedenti cosa ha detto tra l'altro Draghi le imprese e la gente ci dicono che non ce la fanno che esiste un problema di sopravvivenza delle attività e vanno riviste le regole sul patto di stabilità gli aiuti di Stato i regolamenti comunitari sul settore agricolo e ancora dice la strategia europea per l'energia a fusione prevede l'avvio del primo prototipo di reattore tra il 2025 e il 2028 sarebbe il nucleare sicuro e dice la strategia dell'unione europea prevede il primo prototipo di reattore appunto dal nel 25 e 28 le fonti rinnovabili restano l'unica strategia fondamentale nel lungo periodo per l'Italia e poi dice la forza di una democrazia si misura con la capacità a difendere i valori della dignità umana e della pacifica convivenza e poi dice ci sono solidarietà e la compattezza dell'unione europea un'unità di intenti che vede l'Italia in prima linea questo è quello tra l'altro ehm che ehm scrive Corriera Sera che poi dice ecco sempre con Marco Cremonesi l'Europarlamento vota contro le ingerenze russe lega nel mirino si astiene eh vedremo come evolverà questo voto perché anche oggi Salvini le sue performance comunque ehm fanno capolino nei giornali e anche negli editoriali che andremo a vedere tra poco eh quali sono le misure bollette titto ai prezzi anche per la luce oggi la discussione di possibili interventi il vertice avversaie sul corso sul caro energia e sull'ampliamento dei margini per gli aiuti di Stato la mh le borse le vedremo dopo eh dopo che sono andate bene ehm cosa accade nel ai confini con l'Ucraina truppe nato nell'Europa dell'Est in modo permanente così ci difendiamo il presidente dell'Estonia la guerra è molto vicina a noi ho incontrato Zaneschi due giorni prima dell'attacco temeva un blitz nel Donbass e non si aspettava questo ehm questo era eh Andrea eh Marinelli che ha intervistato eh Alar Karish che è 63 anni ed è il presidente dell'Estonia appunto eh la guerra è molto vicina a noi Massimo Gaggi invece diciamo parla di che cosa può cambiare di che cosa cambia perché fa riferimento a eh altre eh imprese altre brand che se ne stanno andando dalla Russia Big Tech con la guerra finisce l'era dell'irresponsabilità Apple non vende più iPhone in Russia Microsoft sta intercettando gli attacchi cyber ed Elon Musk aiuta Kiev a comunicare con i suoi satelliti ehm eh Starlink questo ehm sulla sulla pagina diciannove ehm direi che con questo possiamo eh concludere eh il la parte del Corriere della Sera delle notizie andiamo su Repubblica prenderemo cose diciamo eh possibilmente distinte quindi non parleremo ancora delle bombe su eh Mario Paul su su sulla le testimonianze della Kharkiv perché sono cose abbiamo già visto mentre invece ehm è interessante a pagina quattro della ehm della Repubblica il reportage di Fabio Tonacci da Kiev musica, te e preghiere così la vita resiste nella Kiev underground negli scantinati della capitale sotto attacco si organizzano concerti e si leggono i classici è importante parlare tanto e abbracciarsi allenta lo stress. Il fallimento dei corridori umanitari blef russo questo è il racconto di Corrado Zunino inviato a Leopoli ehm perché appunto nella città occupata il cammino sta inviando la Rosguardia la guardia nazionale per prelevare gli oppositori civili insomma gli invasori usano i corridori umanitari per guadagnare terreno ma bloccano chi vuole scappare ed è sempre Corrado Zunino appunto che ci fa questo eh racconto ehm eh Gianluca Di Feo eh parla di di che cosa succede? Entra in scena l'aviazione inferno di bombe sulle città e questa è l'escalation diciamo che eh si muove con l'aviazione cosa che porta Zelensky a chiedere ulteriormente la chiusura del dello spazio aereo sull'Ucraina ma questo sappiamo abbiamo visto ha delle conseguenze e che vedremo anche questo nelle nei commenti che andremo a leggere il Cremlino va però oltre gli obiettivi militari e cerca di piegare con il tritolo la determinazione della popolazione ucraina e mh e poi c'è l'allarme dal corrispondente da Londra Antonello Guerra che dice Mosca pensa a usare armi chimiche allarme che ovviamente viene dal Gran Bretagna e dall'Inghilterra eh anche qui diciamo si parla della centrale ma l'abbiamo già visto di Chernobyl invece che cosa succede con l'Europa? Eh l'Europa accelera sull'esercito comune attivo già dal 2023 e questa è una cosa importante di cui parla Claudio Tito il piano di Bruxelles è stabilire entro l'anno le aree di operatività del nuovo battaglione sarebbero 5.000 i soldati del battaglione europeo che è un nucleo fondativo dell'esercito comune eh che sarà appunto formato da 5.000 uomini e potrebbe essere operativo già entro il 2023 in anticipo rispetto al previsto. Eh per quanto riguarda i fondi per costruire l'esercito UE e aumentare la sicurezza degli stati membri servono cospicui investimenti la Germania ha già annunciato che investirà circa 100 miliardi di euro per il suo esercito ehm ancora cosa c'è da segnalare che non abbiamo visto su altri giornali è certo invece Giuliano Foschini che è inviato ehm eh scusate e e Corrado Zunino che è inviato a Leopoli Giuliano Foschini che sta a Roma ci parlano degli anti-zar o anti-nato le destre d'Europa di vise al fronte cioè chi come forza nuova dà al patto atlantico la colpa del conflitto e chi come casa pound si schiera al fianco dell'Ucraina contro il potere imperialista diciamo che questo poi ci interessa fino a un certo punto. Eh sempre Claudio Tito eh sulle sanzioni corrispondente da Strasburgo in questa occasione stoppa i soldi da Russia e Cina anche la Lega nel mirino dell'Unione Europea. Ah no qui ci è quello che abbiamo visto scusate sul Corriere della Sera il voto del Parlamento Europeo che eh mette diciamo eh sotto accusa anche eh il eh il il diciamo i i legami con la Russia e la Cina e dentro ci finisce anche la Lega e a proposito di Lega Emanuele Lauria ci parla della solitudine del leader da Salvini nel partito che non si fida più di non si fida più Salvini si fermi un attimo ma l'umore nella Lega all'indomani della figuraccia del segretario in Polonia centinaio dice ognuno ha la propria storia eh qui si mettono i precedenti delle gaffe dei passi falsi e delle gaffe di Salvini quando ha citofonato a quello per chiedegli se spacciava quando se eh è uscita fuori la foto con un pregiudicato e insomma eh vabbè e e peraltro il fotoreporter che ha contestato il capoleghista dice nessuna trappola è stato uno show vergognoso. Oh vi segnalo a proposito di eh posizionamenti quello di Pier Ferdinando Casini intervistato dal vice direttore di Repubblica Francesco Bay dico di no al pacifismo equidistante l'Occidente è a rischio sabato sarò in piazza Firenze in queste ore dobbiamo essere grati agli ucraini che ci ricordano chi siamo chi siamo stati e chi dovremo essere così eh Casini. Poi c'è da segnalare anche Tommaso Ciriaco e Giuliano Foschini che eh a proposito dell'Italia ci parlano dei monumenti spenti termosifoni bassi il piano di emergenza del governo. Oggi ne discute il Consiglio dei Ministri allarme per energia e diverse filiere come i cereali Draghi dice avanti con le rinnovabili e non esclude il nucleare. Ehm è molto interessante sono due pagine quelle a pagina 22 e 23 per l'analisi di Edgar Morin che è eh a cento anni e con più di l'otto luglio scorso ed uno dei massimi filosofi francesi conosciuto per l'approccio multidisciplinare che dice il destino di una guerra nel cuore dell'Europa. L'Occidente cerca di fare tutto il possibile senza l'essenziale ovvero il conflitto che sarebbe una catastrofe. Una catastrofe. La soluzione di compromesso accettabile per tutti sarebbe un paese neutro e federale ma ora non è fattibile. Questo ehm Edgar Morin ehm Morin anzi stessendo sulla eh sulla Repubblica. Vediamo allora anche la stampa anche qui si apre sui bambini ehm anche nelle pagine successive i bambini nel mirino eh poi c'è Natali Tocci anche qui è un'interessante analisi che viene fatta sulla stampa eh a pagina quattro un'atroce crimine di guerra. Impossibile trattare con Putin. L'unico sbocco sensato di fronte all'invasione sarebbe un cessato il fuoco immediato ehm eh ma dice e mette in evidenza un'Ucraina democratica è una minaccia per il Cremlino. Eh si dedica alla ai bambini ancora nelle pagine sei e sette la fuga degli orfani e il reportage di Francesca Mannocchi eh in questo caso da Vorzel in viaggio con i volontari della Croce Rossa da Bielorodro scusate Bielorodka a Vorzel per evacuare i bambini dell'orfanotrofio. La strada per la salvezza è costellata di checkpoint dell'esercito russo. Andare via è sempre più difficile e anche qui ci sono veramente fotografie che lasciano il fanno gerare il sangue. Ehm proseguiamo sulla stampa ehm Domenico Quirico si occupa di Mosca. Mosca la città fallita. I russi temono la povertà e l'isolamento in balia della propaganda accusano le sanzioni. Un complotto dell'Occidente. Ma insomma eh sono sempre belli i racconti di Domenico Quirico la Mosca la città fallita. E e sempre a proposito di Mosca c'è il racconto di Anna Zafesova le madri dei soldati. Avvia al via un canale su Telegram così Kiev aiuta le famiglie a trovare caduti eh prigionieri. Questo sulla stampa a pagina undici. Ehm ancora eh Gianluca Nicoletti si occupa eh del fatto che la Russia sta uscendo da internet senza rete. A partire da domani la Russia sarà disconnessa da internet. Finisce il sogno di un mondo in cui tutto è collegato con tutto. Ma ecco si dice quella propaganda le cose eccetera eccetera. Però non c'è dubbio che se la gente normale da un giorno all'altro si trova senza più il collegamento con internet eh si può fare tutta la propaganda nel mondo. Non sarà un contraccolpo positivo per ehm per Putin. Ora mh si parla dell'America. Rapporti globali rovesciati. Ora Maduro diventa un amico. Washington corteggia Caracas e Tehran per sostituire il greggio russo la necessità di contenere Putin avvicina Biden ad autocrati come Bin Salman. Attenzione attenzione. Eh guardiamolo in futuro lo sviluppo di questa roba. Perché se poi adesso eh l'Occidente va a fare trattative economiche con Bin Salman per surrogare e diciamo supportare l'assenza del gas che arriverà dall'America. E poi sarà molto divertente rivisitare diciamo tutto quello che sta il fango che è stato gettato per il fatto che ehm Matteo Renzi è andato a fare eh delle conferenze. Perché se quello è il leader eh della morte delle donne eccetera eccetera con cui non bisogna trattare eh. Sarà divertente il dibattito che si apre su questo. Ovviamente ci si occupa anche con sulla stampa di Draghi l'economia di guerra. Draghi rompe il tabù del nucleare e promette nuovi interventi. La spinta per una riforma dell'agricoltura e degli aiuti di Stato. A proposito del question time di E. Questo con Ilario Lombardo. Mentre Luca Monticelli a pagina diciassette si occupa eh delle conseguenze di tutto quello che sta accadendo. La grande frenata. L'Istat lo shock energetico vale lo 0,7 del PIL e la produzione rallenta. L'industria a Giorgetti. Un tetto ai prezzi giuiva sugli alimentari. Anche il settore del vino sta rischiando di sparire. Dice Gianmarco Centinaio che è il sottosegretario leghista. Eh la UE sanzioni i russi ma paghiamo noi. Sanzioni i russi ma paghiamo noi. Eh vabbè. Ehm e direi che anche eh dalla stampa possiamo segnalare ehm altre due pagine. Poi concludere ehm lo scrittore ehm italiano Antonio Moresco eh che è un scrittore saggista e drammaturgo eh scrive una su su un'intera pagina sulla stampa pagina venti il pacifismo non è un'astrazione ma la guerra si forma con la guerra. Mi sconvolgono i corpi del conflitto da una parte folle di ucraini disperati e sporchi dall'altra Putin che sembra un bambolotto incravattato igienizzato e sterilizzato. E poi di fianco a questo nella pagina ventuno c'è invece ehm un'altra pagina su cui scrive Dimitri eh eh Glukowski che è uno scrittore russo stiamo imparando a tacere e a credere in ciò che è falso. Abbiamo l'occasione di capire perché i nostri nonni e bisnonni sopportarono le persone eh possono essere annientate con lo scherno e con la diffamazione così sulla eh così sulla stampa. Andiamo a vedere qualche altra cosa su altri giornali e poi andiamo ai commenti. Eh il domani ve lo segnalo perché a pagina di là della del titolo l'apertura apocalipse eh Maripool ma poi invece a pagina tre eh Iosef Asala Algado la pace in Ucraina sospesa tra la Finlandia e l'Aufsia che vuol dire oggi in Turchia atteso l'incontro tra il ministro degli esteri russo e quell'ucraino sul tavolo rimangono le richieste di Mosca e le forme di neutralità sperimentate dai due paesi della eh Unione ehm europea. Eh tra l'altro ci si interroga un dato di Maria De Luca a pagina due sul nucleare in Ucraina quanto sono seri i pericoli eh che corriamo ma poi ancora sempre dal domani voglio segnalarvi a pagina sei eh Emiliano Fittipaldi senatori con Annon ed ex grillini ecco la rete dei fan di Putin e rapporti delle intelligence occidentali raccontano la guerra di propaganda avviata dai russi in Italia analizzati i canali social del parla della parlamentare Granato i siti Novax e i canali Telegram che rilanciano fake news così eh la mette il domani. Eh cosa prendere dal giornale? Possiamo prendere a pagina nove è un'intervista con eh Paolo Scaroni che è stato l'amministratore delegato di eh Eni che adesso è in un'altra società e dice il gas russo si può dimezzare ma azzerarlo a costi enormi. Nel giro di un anno si può ridurre da trenta a quindici miliardi di metri cubi senza cambiare qualità di vita. Gas liquido molto più caro eh gli USA non hanno mai gradito i rapporti a est ma a loro il gas costa la metà e dice per le bollette prolungare le concessioni di rinnovabili in cambio di una quota dei profitti così Paolo Scaroni sul giornale. Andiamo a vedere eh altri altre festate. Prendiamo il tempo. Ora ehm guardate sul sul tempo mh ci sta il tempo di Osho che metto una foto di Letta con ehm diciamo le mani avanti e con questa ehm diciamo battuta e che cazzo ne potevo sapere che questo nove anni eh questo nove anni dopo andava a scatenare la guerra. Perché? Perché ehm il tempo porta avanti insieme ad altri giornali la cosa che ah sì si critica Salvini per la maglietta eccetera eccetera ma tutti i presidenti del consiglio ci sono le foto di Letta ci sono le foto di eh Renzi ci sono le foto di Prodi dice tutti anche gli altri e infatti è Francesco Storacio che scrive gli affari con Putin li faceva Letta. Ehm ora diciamo la 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 verità tutte le cose che vengono messe in evidenza mi pare di vedere sono occasioni nelle quali e accordi che sicuramente sono stati fatti con la Russia ma dai nostri governi di cui in quel momento il presidente del consiglio poteva essere Prodi, Letta e dicendo eccetera eccetera ed erano comunque accordi commerciali. Poi discutibili quanto vogliamo e però è diverso che andare con la maglietta di Putin cosa anche un po' provinciale diciamo sulla piazza rossa e fare il dito ok eh davanti alle eh alle telecamere e ai telefonini e dicendo cioè è una cosa un po' diversa lo sa perfettamente Storace lo sappiamo perfettamente tutti noi comunque gli affari con Putin li faceva anche Letta scrive eh Storace e andiamo a vedere ehm adesso ehm Libero Libero va segnalato per eh tre cose a pagina sei intanto eh si torna sul tema delle alternative al gas russo dice addio al combustibile russo chiediamo il gas ad altri furfanti Andrea Morigi scrive in Azerbaijan si massacrano i cristiani in Algeria avanzano i giadisti e al tiranno Maduro imploriamo un po' di greggio eh così è ehm così va il mondo eh diciamo d'altra parte poi bisogna vedere pure il gas dove c'è mh va bene ma comunque qui anche ovviamente compagni di Russia quando la sinistra omaggiava Putin è che appunto si vedono Putin che stringe la mano con Letta, Renzi, Prodi ma è tutto evidente che se sono Presidente del Consiglio quelle sono relazioni che i governi tengono comunque salvo che si arrivi a delle sanzioni come in questo caso ehm ehm però voglio segnalarvi anche a pagina 11 invece il eh le le un un sondaggio che è stato fatto da eh Libero che spiega Antonio Rapisarda paura della guerra e dei costi le sanzioni spaventano gli italiani per la maggioranza il Cremlino non ha alcuna ragione ma serve una via diplomatica se no si rischia il conflitto nucleare e dice il rischio di una guerra nucleare secondo il 17,3 è probabile secondo il 60,5 è possibile secondo il 17,6 è improbabile eh ancora ehm andiamo a pagina 13 eh perché ehm Mirko Molteni ci parla di un rischio il fronte elettronico è cyber guerra contro l'Italia aumentano gli attacchi alle infrastrutture informatiche della penisola e i nostri sistemi non sono adeguati alla minaccia questo è quello che ci dice eh Libero andiamo a vedere ancora eh il riformista ehm il riformista oltre alla prima pagina con eh vi ricordate c'è un'intervista ehm ehm dove si vedono c'è la foto con seduti Rose, Roosevelt, Churchill e Stalin però in realtà ehm io vi voglio segnalare la pagina quattro eh dove c'è un'intervista ad Alessandro Politi ehm che ehm che è direttore della Nato Defense College Foundation eh l'unico centro di ricerca non governativo affiliato direttamente alla Nato che dice Vladimir affretta perché è debole così farà di Mosca un satellite di Pechino la fragilità di Putin è forse legata alla salute o alla sensazione che la sua stagione sia alla fine questa guerra non sarà utile ai futuri interessi nazionali della Russia e per quanto riguarda l'Occidente dice la Nato gli USA hanno la testa altrove Cina in ricostruzione interna l'Unione Europea il Cremlino non considera borre l'un interlocutore la Commissione ha ambizioni geopolitiche ma non vedo risultati si potevano schierare i gruppi da battaglia in Romania Polonia niente di niente insomma eh non è una una visione molto positiva a proposito del ruolo dell'Occidente in particolare dell'Europa quella di eh Politi andiamo avanti perché ehm ehm per quanto riguarda il vabbè per quanto riguarda il manifesto ehm come al solito basta la copertina perché ehm perché ehm ehm diciamo sintetizza tutto bombe a caduta libera nella città di Mariupol stretta da sedia un raid aereo russo colpisce un ospedale pediatrico provocando diciassette feriti e la nuova richiesta di no fly zone da parte di Zelensky nuovo no dagli USA Kamala Harris a Varsavia per ricucire lo strappo dopo l'annuncio del governo polacco sull'uso di MIG-19 la IER smentisce l'allarme del governo ucraino per Cernobile questa è la sintesi che fa il ehm eh manifesto eh la verità oltre al titolo di eh apertura eh anzi non vi segnalo non lo leggo perché tanto basta il titolo snobare Putin ci consegna all'asse del male tema ripreso a pagina tre della verità i teorici del non si tratta con Putin ci hanno consegnato all'asse del male che vuol dire avere spinto ogni dialogo per fermare il conflitto eh aver respinto ogni dialogo per fermare il conflitto ci porta a negoziare tra le macerie affidandoci a gente come Erdogan e Xi che sono identici al nostro attuale nemico e sono pronti a sfruttare la situazione ora il tema è tutto a partire da un punto ma chi è che ha respinto ogni dialogo per fermare il conflitto ma Belpietro lo vede quello che sta accadendo diciamo eh che addirittura il dialogo che doveva portare corridoi umanitari eh sta portando invece che si spara negli ospedali psichiarici ma di che parla Belpietro vabbè ma questo è eh quello che eh ci dice il tempo mh ancora per quanto riguarda il messaggero vi segnalo la pagina 8 eh benzina prezzi alle stelle nel mirino accise e tasse Leny dice stop al petrolio di Mosca e poi ancora ehm ci si occupa di un altro tema delicato che è quello dei peschericci fermi peschericci rincari fino a 50% all'ingrosso non si trova più il prodotto nazionale fresco pronto il decreto del MIPAF 20 milioni di ristoria al settore le ricadute per le famiglie di questo si occupa il messaggero ehm che va segnalata ancora per la pagina 11 ehm ecco si fermano le fonderie e il Mise dice ecco le aziende che vogliamo sostenere eh la Zanardi ha bloccato tutti gli impianti Agnelli i costi troppo alti siamo a rischio task forza al lavoro oltre 500 le imprese italiane in Russia 80 hanno siti e produttivi così il ehm eh il messaggero eh da ultime va bene il sole 24 ore eh va segnalato per la prima pagina soprattutto rubi a picco Mosca eh nazionalizza le borse puntano su trattative aiuti la valuta russa non è più convertibile ritorzioni su aziende uscite dal paese i listini volano Milano più 7% sull'ipotesi Eurobond in forte calo gas e petrolio sì c'è stato un imbalzo fortissimo di tutte le borse in particolare di Milano che avevano perso parecchio nei giorni scorsi. A venire e chiudiamo la parte diciamo di cronaca va bene il titolo di prima pagina abbiamo visto Mario Pol città martire ma poi vi voglio segnalare ancora due cose a pagina eh 5 eh Biden gioca la carta Kamala Harris Russia e Ucraina riprovano a parlarsi il capo della Casa Bianca in difficoltà per il caso dei jet polacchi il sì di Zelensky eh di Zelensky scusate ha compromessi su Donbass e Crimea riavvia però le trattative Erdogan cerca il ruolo di tessitore e poi ancora però sempre dal venire a pagina 7 ehm Draghi alla camera su gas russo errori incredibili ora più aiuti per famiglie e imprese ehm e poi nel taglio basso invece c'è un'intervista a Matteo Salvini Putin indifendibile tornerò in Polonia maratona mara moratoria su accise e IVA della benzina sì ma eh Salvini se Putin è indifendibile non devi andare in Ucraina devi andare a Mosca come mi ricordo quando da radicali andammo con i regimi molto più duri di quello di Putin eh che c'era ancora Bresnev che c'erano ehm i dittatori in Ungheria cecoslovacca e poi dicendo e noi andavamo a fare le manifestazioni di protesta lì ci facevamo arrestare a Mosca non è che andavamo eh nei paesi vicini per dire quanto sei eh cattivo eh non funziona così Salvini devi andare a Mosca se vai a Mosca chapeau vabbè chiudiamo eh vediamo subito e allora partiamo dalla cosa dei bambini a questo punto prendo Aiello che mi pare che è l'unico uno dei pochi che scriva sulla storia dei bambini eh dell'ospediale pediatrico e andiamo a pagina 23 possibile sì del messaggero e tra l'altro scriva Aiello la strage dei bambini deve valere come scossa a smetterla di cavillare su chi tra i contendenti abbia ragione e chi torto su Donbass o su non fly zone su interessi geopolitici della Russia, dell'America, della Nato, della Cina, della UE e a pretendere che si arrivi subito ora a un compromesso non solo possibile ma obbligato obbligato. Zelensky ha detto di poter accettare alcune delle condizioni poste da Mosca e allora perché non ci si siede davvero intorno a un tavolo di trattativa per la pace? Quante altri bambini dovranno morire perché si arrivi a una composizione dei torchi e delle ragioni che implichi la fine delle ostilità servono altri lutti per smuovere le coscienze dei belligeranti a dire basta agli eccidi e all'eccidio dei piccini. Le immagini di Mario Paul spezzano il cuore dell'umanità ma dell'umanità fanno parte anche i signori della guerra. A meno che loro non abbiano perso anche la più piccola briciola di coscienza e neppure le vite spezzate dei bambini possano valere ai loro occhi come un freno, come una vergogna infinita a se stessi e una pena combinata al prossimo, come un ammonimento a ritrovare il senso perduto della civiltà. Dopo le sequenze sciocche di queste ore davanti all'escalation dei neonati e degli adolescenti come bersagli non si può più essere spettatori della guerra o pacifisti perché è viva la pace. Occorre diventare attori vivi della difesa, del principio di umanità che ha nel rispetto dell'infanzia, nell'amore per le vite nuove, nella gioia di vedere crescere il futuro sulle gambe e negli sguardi dei nostri figli e nipoti la sua quintessenza. Il bambino è l'avvenire e invece lo si seppellisce sotto le bombe della violenza primitiva. Ogni conflitto deve avere un limite, ogni furia deve contenere un freno, ogni mano che lancia un missile deve appartenere a qualcuno che sappia che il bambino che si va ad abbattere potrebbe essere il proprio bambino. Quando l'occhio per occhio e dente per dente rende il mondo cieco anche davanti a esistenze più fragili e indifese si scende sotto il grado zero, ci si inabissa nel nulla, si sprofonda in un vuoto inconmensurabile e brutale in cui non ci sono ragioni geopolitiche che tengano interessi nazionali e internazionali che possono essere e di cui vale la pena parlare. Conclude così Aiello, ora i piccoli grandi martiri di Mario Polla appartengono in pieno per un fatto geografico e culturale all'album di famiglia europeo. Sono vestiti come i nostri bambini, hanno gli stessi animaletti sulle t-shirt, gli stessi ninnoli e gli stessi giochi. Sono proprio i nostri figli e i nostri nipoti e davanti a piccoli pezzi di noi di cui si fa strage ancora ci attardiamo a non prendere non retoricamente ma praticamente parlatevi e chiudiamo l'orrore che venga subito concluso con questa guerra. Finché esistono le macerie sotto cui piangono e muoiono i bambini ucraini, quelle macerie siamo noi, così Mario Aiello sul messaggero. C'è poi anche Cazzullo che sul Corriere della Sera in prima pagina si occupa dei due di Putin e Zerensky e dice hanno lo stesso nome, Vladimir, ma la loro immagine non potrebbe essere più diversa. Di là un autocrate settantenne, gonfio e tronfio, chiuso in un palazzo circondato da mura e da tombe, che parla per un'ora in giacca e cravatta minacciando la guerra nucleare, che non vede nessuno se non a distanza, che non conosce Instagram, non ama neppure le mail, preferisce il fax. Poi andiamo a pagina 32 dove prosegue Cazzullo che tra l'altro dice di qua un quarantenne democraticamente eletto, divenuto professionista digitale della comunicazione di guerra, maglietta verde militare, barba lunga, oghi febbrili, tweet in cui chiede aiuto e prende in giro chi non lo aiuta, video autoprodotti sullo sfondo di colonne di fumo, 15 milioni e mezzo di follower su Instagram, increscere ogni giorno, capace di alternare trovate da adolescente cresciuto online e discorsi vecchio stile. L'altra sera ha fatto alzare in piedi i deputati britannici citando il Bushall Fight con cui Churchill informava il mondo che avrebbe combattuto ovunque e non si sarebbe arreso mai. Con chi volete che stiano i giovani del pianeta? Con Vladimir Putin o con Zelensky? La guerra si fa in primo luogo con le armi, in questo campo Putin è ovviamente più forte, anche se ha sottovalutato sia la resistenza ucraina, sia la reazione occidentale, sia la perplessità del fronte interno, ma la guerra moderna è anche guerra di comunicazione, oppure in questo campo la battaglia è impari, ma a favore di Zelensky. Conclude così Cazzullo, Putin adesso è alla ricerca di un successo propagandistico, la presa di una città, Odessa, Kiev, non vede l'ora di poter annunciare sempre più gonfio e sempre più tronfio il passaggio delle sue truppe vittoriose per strada altrui, ma sarà un'altra mosso ottocentesca che magari rafforzerà la fede dei russi, coraggioso di senso visto in questi giorni non va sopravvalutato, ma screditerà ulteriormente Putin agli occhi del mondo intero. A quel punto il compromesso che fermi le armi e salvi l'indipendenza di un'Ucraina amputata ma non piegata sarebbe più vicino e con esso la consacrazione di Zelensky. Se invece la simpatia e il fascino esercitati dal Presidente ucraino indurranno Putin a eliminarlo fisicamente, allora la metamorfosi dell'attore comico in Eroe Nazionale sarà completa e Zelensky avrà la fine che Montanelli e Rossellini avranno immaginato per l'oscuro personaggio che, a forza di impersonare il nobile generale della rovere, nella tragedia lo era diventato. Così cazzullo sul Corriere della Sera a proposito dei due, Zelensky e Putin. Poi voglio segnalarvi ancora sulla stampa un intervento di Tridico a pagina 29. Ci arriviamo subito. Tridico, sapete che è il Tridico al Presidente dell'Inps che tra l'altro dice è un dovere accogliere l'Ucraina in Europa e mentre in Ucraina si combatte e si muore, a due settimane dalla violenta aggressione della Russia contro qualsiasi principio diritto internazionale l'Europa si rafforza, si è rafforzata l'idea di difesa europea, l'idea di appartenenza, si sono rafforzati i valori di libertà, i valori di autoterminazione e poi l'idea di una pacifica convivenza, priva di aggressioni e violazioni di sovranità, che nel secondo dopoguerra si era affermata all'interno del perimetro della Comunità Europea, prima dell'Unione Europea e dopo. In verità la pandemia Covid-19 aveva già risvegliato valori di solidarietà e di condivisione, portando anche alla sospensione del patto di stabilità che in qualche modo incarna certi egoismi nazionali e al lancio del grande piano Next Generation EU con l'importante innovazione della creazione e condivisione di un debito europeo. Oggi però di fronte al baratro della guerra e dell'aggressione la spinta emotiva e valoriale è ancora più importante, non solo in discussione valori materiali e prospettiva economica, ma gli stessi principi fondanti dell'Unione Europea, ovvero la libertà e la pace. Libertà e pace che sono estremamente difesi dal popolo ucraino, dal loro presidente Zelensky, che ha dimostrato non solo coraggio ma leadership e soprattutto attaccamento concreto e visibile a tali valori fondanti dell'Unione Europea, sulla base dei quali ha giustamente avanzato di nuovo la richiesta di adesione immediata all'Unione Europea. Ma che significa l'adesione di un nuovo paese alla UE? E qui c'è tutta la descrizione di tutto il processo eccetera eccetera, che non abbiamo tempo di leggere, però conclude così, tridico. Dare all'Ucraina, che ha già dimostrato con la rivoluzione arancione del 2004, la successiva protesta di Maidan del 2014 e fino all'eroica resistenza odierna di voler appartenere al mondo delle democrazie e di condividere i valori fondanti dell'Europa, la possibilità di un accesso veloce alla UE potrebbe affrancarla dalla tortuosa transizione che ha avuto e le consentirebbe di intraprendere definitivamente un sentiero di crescita e di sviluppo umano più sostenuto, dando un segnale netto e altamente simbolico contro il sistema politico liberale e le oligarchie economiche di Russia e i paesi CIS. La stessa possibilità dovrebbe essere data ai paesi balcani, non ancora entrati nella UE. Nella tragica emergenza che sta vivendo oggi l'Ucraina e tramite essa il mondo intero possiamo intervenire anche attraverso questa decisione per determinare il presente e il futuro dell'Europa e per dare reale attuazione ai valori in cui crediamo. Così tridico sulla stampa sulla stampa a pagina 29. Anche vado a verificare se mi sto sbagliando, lo vediamo dopo. Andiamo con Stefano Feltri sul prima pagina del domani. Chi decide la linea dell'Italia sulla guerra e tra l'altro stive Feltri. Comincia a diventare un po' imbarazzante l'assenza di leadership italiana nella gestione della tragedia Ucraina. Saltiamo una parte e poi dice sei Feltri. Come si arriva alla sintesi? Dobbiamo essere più saldamente atlantici e intransigenti o sfruttare la storica reputazione di filo russi per mediare con Mosca? Nessuno è incaricato di elaborare la strategia. Il Premier si appoggia a un consigliere diplomatico, l'ambasciatore Luigi Matteolo, che non sembra avergli dato suggerimenti efficaci. Il nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio ha l'umiltà di affidarsi alla struttura della farnesina da sempre più esecutiva che propulsiva. Certo ci sono i think tank autorevili come l'ISPI o lo IAI, ma è un momento come questo che si avverte la mancanza di un consiglio per la sicurezza nazionale prevalente a quello degli Stati Uniti, che ha il mandato di avere sempre una visione del mondo quando serve. L'Italia si ripara dietro la politica europea, non c'è veramente bisogno di un protagonismo nazionale, basta allinearsi con la posizione di Bruxelles, della Commissione e del Consiglio. Ma quella posizione è la sintesi del pensiero elaborato nelle capitali nazionali, Berlino, Parigi, ma anche Varsavia, e il nostro pensiero è troppo debole. In politica il vuoto non esiste, in assenza di una chiara strategia nazionale, la politica estera italiana anche in questa crisi, finisce per essere influenzata dai grandi interessi economici. Prima di tutto quelli energetici. Non è una coincidenza che Eni, ma anche Leonardo e altre grandi aziende siano così presenti come sponsor e partner di tutti i progetti culturali legati a geopolitica e relazioni internazionali. Conclude Feltri. I risultati della sudditanza agli azionisti di queste società a controllo pubblico, ma a maggioranza privata, sono sotto gli occhi di tutti. Dopo un decennio di crescente dipendenza dalla Russia, nonostante l'annessione della Crimea del 2014. Così Stefano Feltri sul domani. Andiamo a vedere ancora Minzolini sul giornale in prima pagina. Dividi e impera. Dice che l'opzione migliore per Putin, ha fatto tutta un'analisi quello che sarebbe utile fare. L'opzione migliore per Putin sarebbe controllare una parte, creando uno stato satellite fedele a Mosca, una sorta di stato cuscinetto che ne terrebbe la Nato e la stessa Unione Europea lontana dai confini della Russia. Verrebbe messa in atto la tradizionale politica del Cremlino, quella che ha contraddistinto l'impero dei Romanov con l'Unione Sovietica. Di più, questa soluzione ha le sue radici nel novecento, nelle sue ossessioni, nelle sue tragedie, nelle sue logiche che ai nostri giorni ci appaiono lontane e per alcuni versi incomprensibili. Ma le folbie del nuovo zar dimostrano che è rimasto nel proprio nel profondo un uomo del secolo scorso. Che importanza ha infatti in un mondo dove si armano i satelliti e i missili hanno agitato intercontinentali avere degli stati cuscinetto? Che garanzia offrono? Probabilmente nessuna. Al Cremlino però si ragiona come negli anni Sessanta, perché Putin si è formato a quella scuola e quella logica è alla base della filosofia che ha condizionato pesantemente il secolo breve. E la razio per molti versi è stata alla base delle divisioni in due della Germania e della Corea e del Vietnam. Con un corollario di non poco conto, dividere una nazione equivale a mettere in dubbio la sovranità per alcuni versi a confutare la stessa identità del suo popolo. E infatti, nel pensiero di Putin l'Ucraina non ha un'identità di popolo né di nazione, è solo un pezzo di russi. Vorrei tanto sbagliarmi, anzi lo spero, ma la credulità di questa guerra e la sua insensatezza per chi guarda il mondo con gli occhi di oggi dimostra purtroppo che l'Ucraina è preda di fantasmi di un passato che credevamo. Seppellito, così Minzolini sul giornale. Voglio segnalarvi anche Guerra, si occupa della parte economica. Sulla Repubblica, pagina 33, scrive Guerra, economia dell'emergenza. Siamo di fronte a una crisi geopolitica, monetaria ed economica che è arrivata proprio quando la grande lube nera degli ultimi due anni, la crisi sanitaria del Covid, stava dissipandosi. Il risultato è uno stato di continuo cambiamento che porta governi, aziende e consumatori a riscrivere regole, adattare comportamenti e inventare nuove strategie da un giorno all'altro. E ancora scrive, in pratica ciò vuol dire un network di stoccaggio comunitario e una diplomazia energetica comune per comprare gas e petrolio. L'obiettivo è ridurre la sciagurata dipendenza dal gas di Putin che dal 2014 hanno dell'invasione in Crimea è addirittura aumentata. Ma né queste misure né il comprensibile desiderio di accelerare la transizione verso l'energia rinnovabile basteranno. L'imperativo per tutti i governi europei e soprattutto quello italiano è mettere soldi nelle tasche di cittadini e aziende che devono far fronte a conti salati per beni di primissima necessità. Qui ci vogliono soluzioni europee, come già discusso, il rilassamento del patto di stabilità che rendano possibili interventi nazionali perché alla fine quello che conta sono le famiglie e le prese soffocate dai prezzi molto più alti del previsto. Draghi non ha detto esplicitamente ma sembra ormai inevitabile un altro intervento che si aggiunga ai 16 miliardi di euro già stanziati contro il caro energia di prima della guerra. L'uomo che disse di voler fare whatever it takes tutto il possibile per salvare l'euro sa benissimo che all'emergenza si deve rispondere con aiuti massicci e che le regole ferre di bilancio dovranno passare in secondo piano rispetto ai bisogni della gente. Il vero pericolo, quello che spaventa gli addetti ai lavori e gli investitori è che la combinazione dei costi elevati e la riduzione dell'attività di produzione e consumo spingano la zona euro nella stagflazione, la temutissima combinazione di inflazione rampante e crescita anemica. Per l'Italia la stagflazione vorrebbe dire buttare via anni di grande lavoro economico e abbandonare le prospettive di potenti cambiamenti strutturali finanziati dai fondi europei. Ci sono dei barlumi di speranza anche sui mercati, ieri per esempio il prezzo del gas e petrolio è sceso, in parte perché l'Unione Europea non seguirà gli USA e il Regno Unito nel blocco delle esportazioni di greggio russo e in parte perché l'Ucraina ha detto di non voler entrare nella Nato, ma gli italiani che ieri hanno trovato benzina carissima e gasolio ancora più caro, ciò importa poco o niente. Per evitare una spirale di pessimismo di consumatori e aziende bisogna convincere il settore produttivo e il grande pubblico che nonostante gli orrori del conflitto questa situazione non durerà a lungo e che i soccorsi finanziari stanno arrivando, l'emergenza continua ma non è più, non può e non deve diventare permanente così guerra sulla Repubblica. Ancora vi voglio segnalare Sanzonetti sul riformista, ritorniamo a Ialta. Il negoziato è la ricerca di un'intesa, sono la stella polare, penso che questo possa essere un punto fermo, poi ciascuno dica la via che gli sembra più realistica, la più giusta, quella pacifica, quella militare, una combinazione tra le due. Vi ricordate Ialta? Ialta è una città della Crimea e lì quasi 80 anni fa si incontrarono tre giganti della politica novecentesca, Roosevelt, Churchill e Stalin. Due di loro erano portabandiera della democrazia, il terzo era un dittatore, più feroce di Putin. Però se l'Occidente ha potuto dopo Ialta godere di quasi 80 anni di pace e di ricchezza, se la civiltà occidentale ha avuto un incredibile salto di sviluppo, se la stessa democrazia ha toccato limiti inauditi e impensabili, allora, molti dei meriti vanno alla genialità di quei tre statisti. Non dimentichiamo, Ialta è ancora lì. A me pare chiarissimo che oggi di quello c'è bisogno, una nuova grande conferenza di pace a livelli massimi che coinvolga tutte le grandi potenze che delini un'ipotesi di pacifico svolgimento delle relazioni internazionali per il prossimo secolo. Non è utopia, è una possibilità concretissima. Chi richiede la rinuncia al fondamentalismo, all'arroganza e la ricerca vera, non di interessi elettorali, ma del bene comune. Il bene del mondo, dico. Gli statisti non si fanno ingabbiare dagli interessi elettorali. Churchill pagò cara Ialta. Lui, l'eroe d'Inghilterra, aveva vinto la guerra, sconfitto il nazismo, liberato l'Italia e la Francia, salvato l'Inghilterra, sconfitto Hitler, definito il dopoguerra e il nuovo ordine mondiale. Quattro mesi dopo, Ialta, in Gran Bretagna, si votò e Churchill fu travolto dai laburisti. Alla conferenza di Potsdam, dopo la presa di Berlino, in luglio, partecipò Clemente Atli per l'Inghilterra e non c'era più neanche Roosevelt, morto improvvisamente e sostituito da Truman. Così, tra l'altro, Sanzonetti sul riformista. Cerasa sul foglio, anche lui fa riferimento all'alleanza che c'è stata tra le sanzioni in Europa, ma anche sulle grandi marche che sono uscite dalla Russia. La scommessa culturale, scrive Cerasa, che si trova alla base dell'aggressione in Ucraina, promossa da Vladimir Putin a colpi di razzi, bombe e mortai, è che alla fine dei conti, il miglior alleato della sua grande Russia, prima o poi, coinciderà con la volontà da parte dell'Occidente di non mettere a rischio il proprio benessere, le proprie industrie e i propri affari per proteggere un paese che fino a qualche settimana fa molti cittadini appartenenti a paesi alleati dall'Ucraina neppure avrebbero saputo indicare su una mappa geografica. La visione putiniana, ricordato ieri il Guardian, tende a rappresentare l'Occidente come un'entità molle, flaccida, morente e decadente, incapace non solo di combattere con veridità un conflitto bellico, ma anche di sopportare una qualsiasi forma di sacrificio economico. Quello che però Putin sembra aver gravemente sottovalutato al momento dell'aggressione dell'Ucraina non riguarda solo la capacità di resistenza del paese invaso, riguarda qualcosa ancora di più importante che costituisce il vero arsenale extramilitare messo in campo dall'Occidente di fronte agli occhi dei nemici della democrazia e della libertà, la capacità da parte delle società aperte di trasformare ciò che gli liberali considerano un punto di debolezza in uno straordinario punto di forza. Nel caso specifico ciò che sta contribuendo a far galoppare la Russia verso uno scenario di default immediato non sono soltanto le sanzioni dirette approvate dalla Unione Europea, dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti, ma sono anche le sanzioni indirette messe in campo da tutte quelle aziende che pur non avendo alcun obbligo formale hanno deciso di stare dalla parte giusta della storia, interrompendo con effetto immediato ogni rapporto con la Russia e l'aggressione. Questo è quanto ci dice Claudio Cerasi. Voglio segnalarvi ancora sul Corriere della Sera a pagina 32 Fubini. Cosa dice Fubini? Tra l'altro dice il dilemma delle sanzioni, parla delle sanzioni, sostenere che questo pacchetto sia leggero naturalmente sarebbe ingiusto, è molto credibile sulle sanzioni. Hanno avuto i propri beni sequestrati in Europa, 875 persone a ieri sera. Per la prima volta vengono bloccate le riserve di valuta estera di un grande paese che non potrà più usare euro, dollari e sterline per difendere la propria moneta e finanziare le attività nel mondo delle aziende nazionali. La Russia oggi è ridotta all'autarchia, metà della flotta aerea civile, va bene, eccetera, eccetera. Il problema è che tutto questo è già successo in Venezuela e in Iran, non ha portato né a un cambio né a un'infressione del regime al potere. Obiettivi confusi vengono minacciati sempre. La guerra in Ucraina ha costi militari diretti stimati tra 400 milioni e un miliardo al giorno, eppure noi europei continuiamo a fornire queste risorse a cremellino perché per ora non possiamo o vogliamo rischiare problemi sulle forniture di gas, petrolio e carbone. Sberbank e Gazprom agiscono da surrogati della banca centrale gestendo quantità di euro e dollari persino superiori a quelle che abbiamo congelato nelle riserve ufficiali perché gliele diamo noi per l'energia. Poi il passare del tempo rivelerà sempre intestizi attraverso i quali certe sanzioni diventano aggirabili. Come uscire da questo pantano, bloccare il petrolio russo e limitare gli affari del gas per l'Europa è più duro che per gli Stati Uniti che l'hanno annunciato mercoledì perché per esempio consumiamo 37 volte più di greggio di mosca del nostro alleato. Ma muovere adesso dei passi su questo fronte priverebbe Putin di somme fra 100 e 200 miliardi di entrate quest'anno. Può essere il colpo che spezza il suo sistema di potere mentre i rincari dell'energia innescherebbero una recessione internazionale che, stima Goldman Sachs, ridurrebbe la crescita italiana del 2022 del 2,6%. Il prezzo per fermare Putin è alto, sale ogni giorno e va misurato contro il rischio di un allargamento della guerra. Ma siamo democrazia e il posto ideale per un confronto aperto con i cittadini sui costi, benefici e sacrifici necessari agli indenizi per i paesi, le famiglie e le imprese più esposte. È il momento di decidere cosa siamo pronti a fare per i valori che diciamo essere i nostri, così fulbini. Una risposta in qualche modo, in questo caso in diretta, arriva dalla Repubblica con il commento di Naim, pagina 33, che la mette così. Dice Putin non solo si è sbagliato sugli ucraini, ha anche sottolotato le democrazie mondiali. La sorpresa più grande è che ci ha portato finora a questo conflitto. L'Unione Europea ha risposto in modo unito e coordinato con i suoi politici e altri funzionari che hanno reagito rapidamente prendendo decisioni che fino a poco tempo fa erano immaginabili. Gli Stati Uniti si sono alleati con l'Europa e altri paesi per imporre costi proibitivi alle aggressioni di Putin. Le democrazie del mondo hanno reagito con inusitata rapidità e in alcuni casi hanno smantellato quelle che erano pilastri fondamentali della loro politica estera. Vedete che c'è una valutazione molto diversa sull'efficacia delle sanzioni, sul ruolo che hanno giocato i paesi dell'Occidente e in particolare dell'Europa. La stampa a pagina 29 con grandi ci parla, purtroppo ho finito, siamo proprio fuori con l'accuso, però ve lo segnalo con grandi ci parla del tema dei profughi, fa riferimento a le varie generosità, Polonia, Moldavia, Romania, Luncre, anche i piani che sono stati rafforzati dalla stessa ONU, però dice che bisogna fare molto di più perché tuttavia è imperativo che la comunità internazionale si faccia avanti per fornire molto più sostegno ai rifugiati e alle comunità ospitanti, in particolare in Moldovia. Questo sulla stampa purtroppo non ho tempo, non ho tempo neanche di leggere Sallusti che dice che povero Salvini insomma, ma anche altri hanno fatto queste cose, insomma, li saltiamo. Per quanto riguarda le borse, va bene, c'è stato un rimbalzo, ne parla il Sole 24 ore a pagina 6, invece per quanto riguarda il catasto, le cose continuano a far fribillare la maggioranza, catasto, la giravolta di Forza Italia che a casa del Cavaliere promisse fedeltà a Draghi e Lorenzo De Cecco che scrive, il Premier ieri alla Camera durante il question time dice che la riforma si farà, questo esecutivo non è nato per stare fermo, è passato in commissione, vedremo che cosa succederà in aula, ne parlano di questo anche il giornale è libero. Il Sole 24 ore a pagina 3 ci parla dell'industria, industria in frenata a gennaio, produzione in calo del 3 e 4%, mentre sempre il Sole a pagina 8 ha un'intervista con il Ministro Giannini a proposito del codice degli appalti, il codice degli appalti sarà migliorato, non a zerato, fatta una buona riforma insieme al Parlamento, questo è quello che dice Giannini. Poi il Corriere della Sera e altri giornali ci parla del fine vita, pagina 22, insomma ieri è stato approvato l'articolo 3, quindi diciamo la parte più importante dopo l'1 della legge, fine vita c'è sia Montecitorio e lo Iuscole, fa il primo passo e allora a proposito dello Iuscole, questo lo vediamo sulla stampa pagina 25, che il partito dello Iuscole, Forza Italia si smarca da Lega e Fratelli d'Italia e in commissione vota il testo sulla cittadinanza, c'è qui una legge, c'è un'intervista con Lucia Zolina, questa legge serve ma si trovino pretesti, non si trovino pretesti per affossarla, vedremo che cosa succederà, sulla stampa c'è anche un articolo dettagliato sulla situazione di crisi degli asili. Per quanto riguarda il Covid, anche qui possiamo prendere il Corriere della Sera, pagina 27, eccolo qui, riaprono le visite a chi è ricoverato, over 50, ipotesi del test per lavorare, Covid cosa dice, ma l'obbligo vaccinale resta ad aprile. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.